Sono stati condannati rispettivamente a 9 e 7 anni di reclusione, accusati di violenza sessuale e rapina di gruppo. Si tratta di due marocchini di 25 e 23 anni, ma ora sono irreperibili. La vicenda risale a luglio del 2016, quando una riminese di 46 anni, che viveva nelle stanze di Roccat, in una ex colonia del Marano Riccione, era stata aggredita e violentata dai nordafricani. A distanza di 4 anni, nonostante l'arresto in flagranza della giustizia, che ha accertato le loro responsabilità, gli autori della violenza sono entrambi spariti dalla circolazione. I due di notte si erano introdotti nella stanza della casa del bimbo a Riccione, nella zona del Marano, dove la 46enne aveva trovato rifugio già da alcuni giorni. Mentre uno degli stupratori la teneva bloccata, il secondo aveva abusato di lei, riempiendola di pugni al volto. Al termine della violenza, i nordafricani avevano lasciato la camera dopo aver bloccato la donna all'interno, chiudendo la porta con una corda. Soltanto nel pomeriggio del giorno successivo, ancora in preda al terrore, la vittima era riuscita a liberarsi e a scendere in strada, dove col volto tupefatto e ancora sanguinante era stata notata alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto era intervenuta l'ambulanza del 118, con i sanitari che, dopo averle prestato le prime cure, avevano trasportato la vittima al pronto soccorso e avvertito i Carabiniella per la verde. I militari si erano messi alla ricerca dei due nordafricani e alla fine sono stati bloccati e portati in caserma, dove sono risultati essere entrambi i clandestini. Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri di Riccione avevano repertato anche alcune tracce di sangue, mentre la vittima, che aveva riportato anche la frattura della mandibola, era stata sottoposta ad una visita maxillofacciale.